Adesso lo do Daniello, magari faccio un'foto, però vorremmo anche mangiare, però si, chiedi Numero 35 ragazzi, 3, 5, chi è la numero 35, oh ecco la buona, vai, bellissima, andiamo alla grande Ciao, come ti chiami? Senti che abbiamo già fatto un'altra suona, un'altra suona, un'altra suona, cosa fai di benotar vita? Una cameriera, allora chiamo la chef della cameriera, ragazzi possiamo aprire un ristorante? E tu come lo vorresti? Simpatico e carino, oh simpatico e carino, quelli che ti hanno messo davanti il destino questa sera? Bene, simpatici e simpatici, fantastico Giovanni, poi andiamo alla grande Bene, grazie a tutti allora qui si fa la propria a Bessina allora ragazzi abbiamo finito